Buongiorno, benvenuti nella tenuta Cadurus, una piccola azienda situata nel Royero, a Castellinaldo. Io sono Sergio Marchisio, titolare, insieme alla mia famiglia conduco questa azienda ormai da una cinquantina d'anni. Siamo specializzati nei vini tipici del Royero, in primis il Royero Arnaise e poi il Royero Nebbiolo. L'azienda agricola tenuta Cadurus è nata nei primi anni del secolo scorso per merito di mio padre Mario, che è stato appunto il primo a riconvertire alcuni appezzamenti di frutta in vignette. Castellinaldo è uno dei più piccoli paesi che fanno parte del territorio del Royero. Pur essendo un paese molto piccolo, Castellinaldo ha il 90% del territorio coltivato a vite. Infatti è un paese di 800 persone e ci sono 47 aziende vitivinicole. La mia azienda è stata fra le prime a credere nel vitigno Royero Arnaise, di quali siamo attualmente forse i più grandi produttori. Abbiamo una trentina di ettari di cui 25 vitati a Royero Arnaise. Sono stati fra i primi a credere nel vitigno Arnaise, un vitigno antichissimo, molto particolare perché è un vitigno autotono che si è sviluppato solo e esclusivamente sul territorio del Royero. Da sempre il territorio del Royero è caratterizzato da un terreno giovane molto sciolto, quindi da origine a dei vini molto profumati ed eleganti. In primis il Royero Arnaise, che è il vino principale di questa zona, di cui io mi diverto a fare tre versioni. Una versione classica, se vogliamo, un metodo classico spumante e un passito, sempre di Arnaise. La mia azienda da sempre ha creduto nella qualità, infatti le nostre rese per ettaro sono molto limitate. Noi da 30 ettari di vigneto produciamo circa 150.000 bottiglie, con una resa ad ettaro di 40-45 ettori. I vini che produco sono in ordine di importanza il Royero Arnaise, il Royero Superiore, il Castellinaldo Barbera d'Alba, il Langhe Nebbiolo e ultimi, ma non per importanza, ma per particolarità due spumanti metodo classico, uno di Arnaise e uno di Nebbiolo. Andiamo adesso a degustare il mio vino principale, il Royero Arnaise. Come dicevo prima, il Royero Arnaise è il tipico vino di questo territorio. Al colore si presenta un bel giallo palerino con dei riflessi verdolini, al naso è ampio, fruttato, con dei settori di fiori bianchi e leggermente agrumato. In bocca è vivo, sapido, con un'acidità leggermente accentuata che risalta tantissimo specialmente sui piatti a base di pesce. Ringraziandovi per aver scelto i nostri vini, vi invitiamo Marisa, Fabio, Ivo e Francesca e Sergio a Castellinaldo brindare con noi. Auguri!